Per quanto riguarda la prima cosa? Eh La faccio per festa Ragazzi ma parlatemi un poco di questa villeggiatura come vi è andata? Ah bello bello Io quest'anno in costa Esmeralda con il mio 30 metri la barchetta ci ho fatto furo e ci ho dato un pari che vogliono uno più bello di noi Ah io invece quest'anno a San Tropez con il mio 40 metri cabinato in noce nazionale tre ragazzi ho conquistato ah ho fatto faville Oh veramente Ti faccio e dici la verità ma io a Capri con il mio 20 centimetri ci ho accappato i 150 metri per stare sbattendo ancora in mano Aldo la vita è tutto un destino ti ricordi che ero un grande attore no? E come no? Sono fallito come attore ringraziando a te tramite qualche amicizia ci prendi il tuo posto e faccio lo scopato Guardate là guardate che schifo la civiltà Signora ma come ho la tua preservativa la coppa a bacio? Scusi Sam ma è il frutto del nostro amore E quando vi mangiate la frutta venite scorsi a noi e chiamate signora Un'altra mezz'ora chiudiamo ci andiamo a fare un bel bagnamare va bene? mezz'ora inciniamo andiamo a te Scusate dite quando fa la regina? quando te la regina è un re eh maresciallo ma che ne è stato tutto addolorato? ma che ne è? sono molto dispiaciuto ma che cosa? qua ci prendiamo in giro una sera mattina con questi barzelletti con quelli di carabinieri no non dovete fare così guagliarù perché è bene è bene fanno i barzelletti è bene pure che ci sa qualche carabiniera fessa ma la maggior parte di noi guagliarù siamo i barzelletti hanno bussato? non vuoi mai dal luogo vado io ho spicciato la coccoruglia non ce la faccio più no è la falla tua e poi ce la mandiamo vabbè prego buongiorno buongiorno scusate la femmina nuro quanto fa? la femmina nuro? è ventuno la femmina nuro fa ventuno ecco è una femmina è un tantana nuro quanto fa? fa schifo peggio di te tu mi devi credere guarda io tengo un'ammirazione per quegli uomini che in casa fanno il loro ruolo si fanno rispettare non che l'hanno mandata comandata per dittatura ma amore di Dio ma lo sai l'hanno mandata per tu la sua la parola dell'uomo non ha dato la rete l'hanno mandata stronda ecco io per esempio tu non ci crederai ma io non mi posso proprio lamentare scusa ma tua moglie come cucina? non mi posso lamentare e le camicie come vestite? non mi posso lamentare e sessualmente o tu non mi posso lamentare eh ma allora che buco non lo posso lamentare se no che mi abbuffo i mazzati e tu? scusate non mi riuscite niente me sono facile penso che sono attaccato con un elastico proprio il c***o chi l'ha trovato? non avete paura l'onestità prima di tutto cosa l'ho trovato ieri grazie elastico è vero che sono il cameriere dell'hotel e che sta già facendo innanzi la rete ma ho un po' di comprensione pure per me che fanno un cuore che si spaccano i preti a mare gentilmente decidete quello che volete e io vengo l'ultima volta perchè non tanto voi non tanto il signore ma il giovinotto loco mi stava andando innanzi la rete e ora il gelato e ora il caffè e ora il c***o e ora il c***o decidete va bene vado e vengo e dici e questo è il figure che mi fai fare tu insomma in casa la famiglia l'unico serio è un c***o che il bene o male pure il femminile ma perlomeno è una signora e perchè ha valutato che ci sono avaletti capito? ma che avaletti è avaletti è il figure che mi fai fare e visto a chi è il giovane non dite proprio dignità non dite contegna vai a ferme non lo chiamo vado per me o no? vado per me no tu li ha per me non mi fai fare brutte figure se hanno un albergo per me e li ha per me troppo bello stavano stavano potessi mettere accanto non dite se non vuoi ma che arriva ma ti fa brutto figure fai zitto fai l'uomo tu ma no ma se non vuoi mi sono d'occhio se non stai in cameriere 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 non fa mano eh se mi hanno chiamato a foto di un buon c***o mmm cameriere cameriere Tutto l'uomo nella parte se ne violentamma, tutta la femmina è nata parte sull'icilimma! No signore! Tutto l'uomo nella parte se ne violentamma, tutta la femmina è nata parte sull'icilimma! E' tutto il contrario, l'uomo nella parte se ne violentamma, tutta la femmina è nata parte sull'icilimma! E' tutto il contrario, l'uomo nella parte se ne violentamma! Ah no, è quello che ti ha detto! Mi lasciava già ricerci una cosa? Dite, appuntato, dite! Io è da un mese che sono sposato, e ti sicuro il mese prossimo divorzio! Addirittura, e perché? Che è successo? E perché? Perché mia moglie non ha rispetto di me, ecco! La mattina mi ha alzato alle sei perché devo portare il cane a fare la pipita! Alle otto devo andare a fare la spesa, e il pomeriggio devo...